Questa Lombini e Nevio Lombini Anche la loro gara inizia con il waltzer Nevio ha 31 anni, questa coppia arriva da Faenza e come la precedente sono degli atleti del maestro Cicognani Anche loro sono di classe professionisti E anche per loro il secondo ballo in gara è la Mazzurca Tutte le coppie di Danze e Poic fanno parte dell'ente tutela Danze e Poic Che è una branchia dell'associazione nazionale maestri di ballo Io so che questo è il loro ballo di forza perché questa è una coppia che ha molta grinta Ovviamente sono campioni, hanno vinto la Copa Amp 97 e sono vice campioni italiani Danze e Poic dello stesso anno Grazie a tutti Grazie a tutti